Catania, operazione della Polizia di Stato nei confronti di uno sodalizio criminale operante nel rione San Giovanni Galermo, arrestati per i reati di associazione per delinquere, finalizzata dal traffico illecito di sostanza stupefacente, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, attività coordinata dalla direzione distrettuale antimafia che mette fine a questo sodalizio criminale che si era arricchito in maniera illecita.